bianca clamoroso maglia talmente bella che non me la voglio più togliere di dosso la voglio ottenere per sempre come con me bellissima non so se avete visto l'unboxing che ho pubblicato ieri veramente di pochi secondi una cavolatina però guardate me la metto anche oggi perché è veramente splendida magnifica in tutto il suo splendore maglia clamorosa ed eccezionale e dato che vi è piaciuto tantissimo il video che ho pubblicato su firmino e la struttura che ho dato al video per spiegarvi i pro e contro dell'operazione oggi facciamo la stessa cosa per un altro giocatore che avete già visto tra titoli miniatura cioè timo werner altro attaccante altro attaccante della premier league altro vincitore la champions league associato alla juventus un giocatore che viene sempre dato in orbita juve nelle ultime settimane quindi cercheremo di capire la fattibilità dell'operazione l'utilità di arrivare a questo calciatore e chi è effettivamente timo werner quindi direi di iniziare subito cambiamo schermata ma prima di tutto come al solito qui sotto in descrizione link per creare una lega fantacalcio in inglese per partecipare per vincere per divertirvi per migliorare anche il vostro inglese come potete vedere i premi sono di altissimo livello la maglia della vostra squadra del cuore ogni settimana verrà estratta e i premi finali sono di altissimo livello macbook pro smartwatch e addirittura playstation 5 quindi tutto quello che di meglio si può desiderare sulla faccia della terra praticamente a livello materiale da acquistare serie a fantasy link qui sotto in descrizione ve lo consiglio direi di iniziare subito con la nostra recensione e quindi timo werner analisi profilo chi è timo werner può tornare utile alla juventus del legre 2022 2023 nazionale tedesco nato il 6 marzo 1996 quindi 26 anni appena compiuti ha vinto una uefa champions league nel 2020 2021 giocatore destrorso alto un metro 80 quindi non troppo alto nemmeno troppo basso direi abbastanza nella media per quanto riguarda gli uomini forse un pelo più basso della media per quanto riguarda i calciatori nella fata specie di attaccanti però giocatore con delle caratteristiche interessanti perché si parla di timo werner verner inizia a essere accostato alla juventus da qualche settimana durante i primi contatti tra vecchia signora e celsi per delito il nome di timo diventa subito molto caldo addirittura ricorderete sky sport dava per fatta la trattativa che vedeva verner a torino insieme a una quarantina di milioni di euro e infatti secondo gianluca di marzo all'epoca il tedesco aveva dato addirittura il consenso al trasferimento invece secondo romeo agresti è un nome da monitorare attenzione che nelle ultime ore dall'inghilterra rimbalzava anche la notizia che thomas tuckel quindi allenatore di timo werner fosse interessato a mantenerlo ancora all'interno della rosa per almeno questa stagione poiché l'uscita di lukaku ha comunque modificato la struttura del celsi dell'anno scorso e quindi potrebbe avere ancora qualche cartuccia da giocarsi però tanto noi facciamo un'analisi perché potrebbe comunque essere un nuovo in uscita al di là delle affermazioni o comunque delle idee di questi rumor che arrivano d'oltre manica timo werner ruolo dati infortuni costo juventus e fattibilità sempre i nostri sei punti che andiamo a prendere in esame per cercare di farci un'idea quanto più oggettiva e completa possibile dell'operazione legata al calciatore dei blues e quindi ruolo timo werner quale posizione occupa in campo come al solito vi ho messo l'itmap stagionale della premier league come potete vedere giocatore che ama giocare tanto sulla sinistra e questo non è assolutamente da mettere in anzi da tenere in considerazione in forte considerazione perché un giocatore che quella posizione lì la calpesta spesso e volentieri vedete quanto rosso c'è sulla fascia sinistra è comunque un giocatore che in area ci va molto di più rispetto a firmino punta centrale come ruolo naturale altro ruolo a destra e sinistra giocatore veloce valido in progressione apprezzato per il dinamismo per le qualità tecniche e la resistenza agli esordi è stato impiegato come ala quindi il primo ruolo quello ancestrale quello di esterno attacco poi diventato attaccante centrale non è proprio la tipica ala tecnica che gira al giorno d'oggi nel calcio mondiale ed europeo è infatti un attaccante una punta che può giocare anche sull'esterno elogiato per la capacità di ripiegamento e di dialogo con i centrocampisti quindi qua la perfezione per la fase non possesso eventualmente è abile nel gioco aereo nonostante i 180 centimetri nei movimenti senza palla è in possesso di ottimo fiuto del gol uno dei suoi punti di forza è il tiro della distanza specialmente col piede destro il suo piede naturale quindi giocatore abbastanza interessante per quelle che sono le sue caratteristiche e anche la sua duttilità dati timo werner presenza e rendimento per stagione con focus principale a quella appena conclusa werner nell'ultima annata ha giocato 2.215 minuti quindi qualcosina di più circa 400 minuti in più rispetto a firmino siamo lì sotto il profilo dei numeri cioè sulle presenze werner penso che ne abbia fatte due in più mi pare 35 firmino gol dovrebbero essere 11 per tutti e due gli assist sinceramente non mi ricordo werner ne ha serviti sei di cui tre ne fei cap uno in premier league e due in champions league anche qua notiamo che in champions esattamente come firmino c'è stato l'exploit maggiore stagionale per quanto riguarda i gol segnati quindi cinque partite quattro gol due assist sono ottimi numeri per la champions league quanto riguarda la premier soltanto 21 partite di premier league disputate quattro gol e un assist veramente numeri terrificanti per un attaccante veramente numeri mostruosamente bassi vediamo cerchiamo di capire il perché guardiamo i dati del celsi l'anno scorso aveva giocato 35 partite da titolare e aveva segnato da titolare in totale in stagione in premier league aveva segnato sei gol e aveva fatto quattro gol in champions esattamente come in questa stagione ma in 12 partite portandosi però a casa la coppa giocando da titolare l'attaccante titolare del celsi e aveva concluso la stagione con 52 partite e 12 gol segnati quest'anno complice l'arrivo di romelu lukaku che comunque non ha fatto una grande stagione infatti è tornato all'inter ma soprattutto all'esplosione di kai avers che è stato selezionato come vero e proprio attaccante titolare da thomas tuchel concluderanno con 37 partite 11 gol quindi siamo sulla stessa falsa riga di gol segnati partite giocate nettamente meno in questa stagione complessivo 89 partite col celsi 23 gol messi a segno per un attaccante sono numeri veramente molto bassi in due stagioni solitamente una ventina di gol un attaccante li fa in una stagione figuriamoci in due giocando in premier league giocando tante competizioni come l'FA cup l'FL e ovviamente la champions mondiale per club la super coppa uefa come in questa stagione ed avendo vinto pure la champions ha passata stagione insomma sono numeri molto bassi molto bassi però se ci fermiamo a ragionare sull'ipsia quindi sulla le ultime quattro stagione che ha giocato in mondesliga iniziamo ad avere un'altra idea di timo werner 159 partite con l'ipsia 95 reti veramente l'opposto rispetto alla sua avventura al celsi che all'interno del gioco al celsi tra l'altro un giocatore importante perché libera tanti spazi per i compagni però gli vengono meno i suoi gol e quindi un giocatore che può fare tutti e due i giochi nel senso se viene messo nel contesto di essere il punto di riferimento offensivo di una squadra e quindi giocatore che deve catalizzare le azioni dei compagni come magari avveniva nell'ipsia un giocatore che fa gol se invece deve essere messo a servizio a disposizione della squadra come nel celsi e quindi magari giocare di sponda o giocare per liberare la possibilità ai compagni di inserirsi fa meno gol però comunque il suo lo fa e l'anno scorso è stato l'attaccante titolare della squadra che ha vinto la champions league qualcosa vorrà pur dire io non sono particolarmente innamorato del calciatore però sono anche dell'idea che 95 gol in 159 partite in bundesliga ed essere un giocatore della nazionale tedesca di calcio non sia da tutti e che quindi timo werner delle qualità ce le abbia ribadisco non sono innamoratissimo del calciatore forse anche perché al celsi comunque si è portato dietro questa nomea di calciatore molto sprecone di non attaccante vero e proprio e quindi nelle ultime due stagioni nel momento in cui ha dovuto fare il salto decisivo intorno ai suoi 24 anni d'età nel momento più importante della carriera non ha risposto alle aspettative che erano molto alte all'ipsia infatti ricordo quando si parlava di werner che lasciava all'ipsia si parlava principalmente di liverpool la juventus era interessata e tutti noi speravamo di poter acquistare werner come erede di wayne era praticamente l'annata di sari eravamo in piena pandemia quindi avevamo una gran voglia di vedere timo werner alla juventus come titolare in questo momento non stiamo parlando dell'attaccante titolare bensì di un giocatore che potrebbe aiutare duja vlaovic come completamento ma adesso andiamo a vedere un po tutto prima concentriamoci sugli infortuni quindi tende spesso a fermarsi no devo dire di no questo è un punto molto importante abbiamo visto che firmino l'ultima stagione è stato un disastro e dato che abbiamo anche pogba claudicante abbiamo vlaovic con la pubalgia abbiamo qualche problemino fisico di troppo in generale avere un calciatore integro fisicamente non è male certo qualche problema muscolare l'ha avuto pure lui qualche stiramento però in due anni di celsi stiamo parlando di 12 partite perse in totale per infortunio di cui sei per covid che può succedere tranquillamente e quindi questo non è un problema tra l'altro 15 dicembre al 3 gennaio quest'anno non avrebbe se prendere il covid in quella fascia lì non avrebbe nemmeno problemi con la juve perché di partite lì non si giocano causa mondiale adesso piccola battuta però stiamo parlando di un giocatore che particolari problemi fisici non ne ha mai avuti quindi sicuramente se devi decidere di fare un investimento su un calciatore magari 96 con pochi infortuni o 91 con tanti infortuni una società che deve ragionare come un'azienda perché sta facendo un vero e proprio investimento probabilmente va sul giocatore più integro fisicamente e con degli anni in meno costo timo verner perché se di investimento si parla dobbiamo ragionare sui costi cartellino e stipendio contratto in scadenza 30 giugno 2025 quindi situazione completamente diversa rispetto a quella di firmino il celsi lo acquista giugno 2020 per 60 milioni di euro e gli offre un contratto di cinque anni quindi 60 diviso 5 fa 12 quindi ogni anno ha un ammortamento di 12 milioni come vedremo dopo valore attuale del cartellino non troppo elevato transfer market lo mette a 35 milioni per un motivo appunto considerando l'ammortamento anno di 12 milioni il celsi potrebbe liberarlo a 36 per non far meno svalenza quindi 60 diviso 5 12 ogni annata vale 12 milioni ne ha giocate due hanno fatto l'ammortamento di 24 rimangono 36 per arrivare a quei famosi 60 e quindi il celsi per non far meno svalenza dovrebbe liberarlo almeno a 36 poi ogni milione dopo il 36 è plus valenza per il celsi a novembre 2021 però attenzione secondo calcio finanza lo stipendio di verne risulta essere pari a 14,14 milioni sterline a stagione uno dei calciatori più pagati del celsi insieme a lukaku a kanté a saul insomma giocatore con stipendio molto alto decisamente alto perché in euro parliamo circa di 17 milioni a stagione netti molto molto alto la juve può sperare grazie al decreto crescita certo ma servirebbe anche una netta riduzione dell'ingaggio quindi se fino adesso abbiamo visto delle caratteristiche positive per la posizione in campo per il costo del cartello non troppo elevato per l'età per gli infortuni i contro in questo momento sono giocatore che nelle ultime due stagioni non ha fatto vedere chissà che cosa a livello realizzativo ma soprattutto con un ingaggio fuori portata per quello che è l'idea bianconera e quindi juventus bremer dove giocherebbe si bremer verner dove giocherebbe alla juve ce l'ho qua eh ce l'ho qua gleason allora la juventus alla ricerca di un vice vlaovic o di un esterno che possa giocare a destra a sinistra un 433 verner è esattamente la tipologia di calciatore ricercato le alternative a timo sembrano essere il solito morata e martial del manchester united il tedesco è quattro anni più giovane del nostro ex alvaro e un anno più giovane del star francese che un 95 alla juventus verner potrebbe giocare come steno sinistro nel tridente oppure anche a destra però c'è abbondanza di marea quadrado sulle insomma ne abbiamo tantissimi altri che probabilmente mi dimentico come chiesa quando rientrerà che può giocare comunque anche a sinistra infatti tanti mi continuate a dire ma perché non metti chiesa nelle grafiche beh ragazzi chiesa ufficialmente tornerà praticamente a gennaio alla juventus pogba continua a metterlo perché ancora non abbiamo una diagnosi però è ovvio che chiesa giocherebbe probabilmente a sinistra nel tridente però fino a gennaio che cosa facciamo non ce l'abbiamo dei calciatori in questo momento c'è ken che ricopre che ricopre quella posizione un po come sta facendo werner in questa grafica quindi alla juventus potrebbe giocare appunto come steno sinistro nel tridente o a destra dove c'è abbondanza come punta centrale al posto di vlaovic o in un attacco a due a fianco del nove serbo un po come va ipotizzato per firmino in un 4 3 1 2 con di maria trequartista stessa formazione facciamo un attimo una giravolta quindi di maria sulla trequarta e vlaovic e werner davanti va benissimo a livello tattico pare un innesto decisamente sensato anche per quella che è la modalità di difendere di allegri quindi pogba che si sposta sul centro a sinistra locatelli e zaccaria che vengono in mezzo di maria che scende e va a formare il 4 4 2 anche se l'altro giorno col barcellona abbiamo visto una juventus che difendeva con un 4 a 5 1 abbassando entrambi gli esterni che secondo me è il modo migliore di difendere se giochi con un 4 3 3 ma di questo poi parleremo più avanti quando avremo qualche informazione in più perché ovviamente abbiamo visto due amichevoli in questo momento di luglio in un abbiamo difeso in un modo in un abbiamo difeso in un altro quindi troppo poco per iniziare a mettersi particolari idee in testa fattibilità di verne arriva davvero tiriamo qualche conclusione non sembra esserci stato una vera propria proposta ufficiale bianconera per verner nonostante i vecchi dialoghi relativi alla trattativa d'elite sappiamo però che il celsi appunto potrebbe cedere il giocatore a partire da 36 milioni considerando un quinquennale e non un quadrennale come per firmino dato che comunque ci sono gli anni di differenza da 8 milioni emetti che il tetto massimo della juventus abbiamo visto non ufficiale ma ufficioso e con l'utilizzo del decreto crescita quali cifre otteniamo 36 milioni in 5 anni generano ammortamento del cartellino di 7.2 a stagione 8 milioni di euro netti con decreto crescita sono circa 10.4 lordi a stagione verner quindi costerebbe alla juve circa 17.6 milioni a stagione dai 27 ai 31 anni e quindi impressione numeri comunque troppo alti per la juventus cartellino accettabile sì ma l'ingaggio rimane elevato per colpa di quanto guadagna al celsi livello tattico garantirebbe diverse opzioni complessivamente direi di sì anche se forse serve qualche altra riduzione relativa all'ingaggio perché continua a essere troppo elevato non adoro il calciatore ma in questa rosa avrebbe decisamente senso visto quello che ci sta cercando quindi conclusioni a piacere solo di morata calciatore però non mi fa impazzire e quindi aspetto anche i vostri commenti qui sotto nella sezione apposita spero che questo video sia stato completo tanto quanto quello di firmino fatemi sapere le vostre impressioni e vediamo se verner sarà il nuovo acquistore a juventus